È stato il fondatore del fascismo, il capo del governo. È senza dubbio il personaggio del momento. Il vostro nome? Benito Mussolini. Il mio obiettivo è di viaggiare per l'Italia e di riconquistarla. Sareste d'accordo su una dittatura? Ma una dittatura libera però. Una dittatura non troppo dittatura. Benito. Mussolini è occupato. Ma Dux 2018 è libero? Io non sono Dux 2018. Superuomo. Preso. Camicia nera. Eccellenza lui. Preso. E che cazzo? E che cazzo è libero? Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone. Che razza di persona sei? Convincente. Votate, votate, votate. Ma a che serve votare se voi non avete la minima idea di quello che fanno i politici? Che voi avete votato? Allora cazzo? Ma a che serve votare se conviction.